Ragazzi benvenuti nel mio canale, oggi recensione dell'albo numero 193 di Dampier, i misteri di Cagliari come sempre copertina all'opera del grandioso Neri Boldi che questo mese veramente mi lascia senza fiato vediamo appunto Dampier appoggiato a queste costruzioni tipiche sarde perché appunto l'avventura è appunto ammiettata a Cagliari e qui vediamo il duca Nergal, quindi il duca infernale, maestro della notte, arci nemico sia di Caleb Lost che di Dampier sotto forma di questo dragone che appare anche all'interno della storia soggetto a sceneggiatura di Mauro Boselli e disegni di Nicola Genzianella allora di cosa parla questa storia? Questa storia parla di un bambino, un bambino che ha un rapporto molto particolare con il nostro Caleb Lost, il nostro angelo allora la storia inizia con un flashback, praticamente ci viene spiegato che questo bambino ai tempi ancora dei Templari praticamente, era andato a fare una famosa marcia dei fanciulli e durante questa marcia dei fanciulli in mare è stato attaccato da Nergal ed è stato trasformato da bambino in un non morto questa cosa non ha fatto piacere ai piani alti, quindi sia Nergal che Caleb Lost sono andati in presenza sia di Iblis, che sarebbe Satana che di Dio, da quello che ho capito e allora che cosa è successo? Che Caleb Lost è stato messo a dirigere praticamente la squadra del bene a Praga e a Nergal è stato vietato di usare i poteri mentali dei maestri della notte su questo bambino perché è una legge dell'equilibrio che non si possono trasformare in non morti i bambini quindi adesso vi faccio vedere, ecco qua, quindi in questo albo abbiamo sia l'apparizione di Iblis, quindi di Satana che anche Dio che è questo personaggio, io comunque questo capo degli Amesha che penso che sia Dio, eccolo lì eccoci qua, quindi che cosa succede? Che Caleb praticamente non riesce più a vedere questo bambino e quindi nei secoli che sono passati lui ha sempre mandato un emissario a parlare con questo bambino per conto suo questa volta decide di mandare appunto a Cagliari dove c'è questo bambino Arlan e quindi che cosa ci sarà in questa storia? Ci sarà Arlan che si ritroverà con Sophie una vecchia conoscenza del nostro cacciatore di vampiri e poi ci si parlerà anche di questa strana donna che è una succube, ovvero è un'ancella di Samael quindi il dio, diciamo, della seduzione, il braccio destro di Nergal e che cosa succede? Ci viene narrata quindi la storia intanto del bambino la storia della vita di questa succube quindi ci saranno dei flashback con tutti i lavori che lei ha fatto per Nergal e per Samael dopodiché lei cambierà bandiera e diventerà un'amica appunto di questo bambino e protettrice di questo bambino tanto caro alla Meshach, alle Belost quindi ci sarà il Dampir, quindi il nostro Arlan Draca e Kuriak che collaboreranno con Sophie per tentare di, diciamo, di parlare con questo bambino e di fronteggiare Nergal perché che cosa succede in questa avventura? Nergal vuole usare di nuovo questa succube per finire il lavoro che lui ha fatto con il bambino quindi andare contro alla legge dell'equilibrio e renderlo suo schiavo del tutto perché ormai questo bambino dai tempi dei Templari a ora avrà già mille anni e Arlan Draca viene mandato a Cagliari apposta per impedire che ci sia questa cosa quindi ci sarà intanto spiegato la genesi di Nergal quindi come Nergal diventa capo della polizia infernale come un maestro della notte venga scelto per quel ruolo lì viene fatta vedere la genesi di questo angelo succube quindi di questa donna sedutrice che usa il sesso, diciamo, per far fare a uomini di potere quello che vuole viene narrata la storia di questo bambino che appunto è stato trasformato in vampiro contro le leggi dell'equilibrio e che è diventato quindi un protetto della mesha Caleb Lost e che Dampir deve difendere e poi c'è appunto l'eterna lotta tra Dampir e Nergal che anche qui verrà avanzata di un altro tassello quindi Dampir proteggerà questo bambino per conto di Caleb Lost e proteggerà Nergal alla fine dell'albo quindi è una storia molto bella, gli intralci storici, questo è Samael, il demone della seduzione l'angelo della seduzione che si scopre essere fratello di Caleb Lost qui è nella scena quando lui incarica appunto la sua succube di fare questo lavoro quindi questa donna protagonista anche di quest'albo quindi ci saranno molti intramezzi storici, molti flashback storici molte parti storiche dove si racconteranno varie fasi della vita di tutti questi protagonisti e l'eterna lotta tra Dampir e Nergal andrà avanti vi farò vedere una scena della battaglia finale tra lui e il dragone e Nergal così giusto per mantenervi, per farvi vedere vedete qui c'è il bambino e qui c'è l'apparizione di Nergal che tenta di finire il suo lavoro con questo bambino e Arlan che lo fronteggia eccolo qui vedete arriva Curiac, arriva Arlan e si affrontano con Nergal dopo il finale non vi sto a dire come va a finire comunque una sceneggiatura molto bella una storia molto bella delle parti storiche molto ben narrate si sviscerano il passato di molti personaggi tra cui Sam e Nergal soprattutto Nergal si scopre come ha fatto diventare capo dell'inferno mi è piaciuto tanto il fatto di vedere Iblis quindi Satana come è raffigurato sulla serie di Dampier e i disegni di Nicola Genzianella che ho incontrato di persona al Cartoon Mix quindi un ottimo disegnatore guardate come ricrea molto bene queste atmosfere plumbe di Praga quindi i disegni degli ambienti e delle scenografie sono qualcosa di eccezionale guardate i volti sono un po' così e così possono piacere come no a me piacciono particolarmente questo tratto fine e sottile che ha guardate molto bene la somiglianza con David Bowie di Nicola Genzianella di Caleb Lost quindi degli inframeggi storici molto ben ricreati dei disegni molto belli molto onirici vedete tutte queste scene dell'attacco in mare quindi una storia molto ben articolata molto vasta si intricano fra di loro moltissime storie e quindi un albo del mese di Dampier che vi consiglio di recuperare a tutti i costi quindi un'ottima storia questo mese io ce l'ho preso un po' prima questo esce di martedì e io ce l'avevo già il venerdì quindi un ottimo andate corretene di cola subito a prenderlo perché merita quindi ci sono ottimi personaggi un'ottima sceneggiatura e degli ottimi disegni vedete anche Cagliari quindi disegni di una città di Cagliari impeccabili tutti i volti dei protagonisti sono molto belli vedete Genzianella sugli ambienti è particolarmente bravo la cattedrale quindi un ottimo albo recuperatelo e ditemi cosa ne pensate se siete fan di Dampier fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia fatemi sapere cosa ne pensate di come è andata la serie dall'inizio a ora se siete fan della prima ora o se siete neo fan se volete essere aggiornati sempre sul mondo di Dampier e volete sentire altre recensioni su questa testata iscrivetevi al mio canale che io ogni tanto una recensione di Dampier la metto dentro oltre che all'uscita mensili perché è una serie che io seguo da numero uno e a cui sono particolarmente affezionato e se questo video ti è piaciuto condividilo con chi vuoi e più che puoi metti un like o un dislike se ti è piaciuto oppure no lasciami qua sotto nei commenti tutto quello che vuoi quindi tutte le tue opinioni tutte le vostre i vostri pareri su questo disegnatore su Mauro Boselli o su quello che volete e noi ci vediamo alla prossima recensione ciao ragazzi